Oltre 1600 studenti, 230 docenti e centinaia di scuole coinvolte nel progetto Costituzione e la nostra carta d'identità, finanziato dalla regione toscana, promosso attraverso l'Istituto Toscano della Resistenza e dell'età contemporanea in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale e presentato dalla vicepresidente Monica Barni. A novembre, in tutte le dieci province toscane, insegnanti e ragazzi racconteranno il lavoro svolto sulla Costituzione nei mesi scorsi, parlando di diritti, uguaglianza, libertà e lavoro. Si parla troppo spesso di Costituzione ma poi non si è letta la Costituzione anche se è un documento che è molto più semplice da leggere di tanti documenti che sono stati scritti in anni più recenti e quindi abbiamo formato gli insegnanti poi lavoreremo con percorsi didattici nelle classi. Si tratta, ha spiegato la vicepresidente Barni, di un percorso di cittadinanza attiva che prosegue i corsi di formazione che hanno coinvolto da febbraio i docenti delle scuole superiori toscane attraverso gli istituti della Resistenza della Regione. Primo appuntamento il 6 novembre a Pieve Santo Stefano e chiusura il 22 a Pontremoli. L'aspetto innovativo è che saranno gli studenti stessi che hanno lavorato in classe con i propri insegnanti sui temi della Costituzione, protagonisti di questi convegni. Ci porteranno le loro riflessioni, i loro elaborati, le loro domande. Grazie a tutti.